muore stronza oddio santo cazzo è un elicottero perdiamo anche questa oddio ma chi è oddio ma chi è cazzo cavalli di zombie ciao a tutti ragazzi benvenuti in questi nuovi video di call of duty black ops 3 multiplayer oggi siamo qui con il nostro compare antonino ct ciao a tutti ragazzi ragazzi sarà la terza volta che registriamo sì perché avevamo registrato su zombie due partite però non si sentiva bene no la prima volta inizio la prima parte non ti sentiva la tua voce non deve avere la seconda parte l'audio il mio audio si sentiva basso sì e stiamo facendo qua questa partita quindi ha detto ci abbiamo detto e mi hanno ucciso bellissima all'inizio e siamo su bridge questa mappa che è un pochettino non mi piace tanto sta mappa oh no anzi non sto andando male di ping tu come va si sta allargando no io sono 63 buono dai oh prima kill io l'ho fatta l'hai fatta anche te come va ah se ne hai fatte due si ne ho fatte due cazzo oh si comunque ragazzi io sto usando adesso nomad con la cosa di cui arma io sto usando il cuota con l'eplex che non avremmo l'anno è l'arma nomad è il personaggio ah no io invece sto usando il cuota arma infatti ecco questo qua quando mi uccidono praticamente posso ritornare in vita e personaggio sto usando quello con l'overdrive si quello che fa lo schianto gravitazionale schianto gravitazionale quello che è rifottuto per la seconda volta ma guarda che bastarda ok c'ho l'overdrive no non lo utilizzo ancora oddio santo carico battendo si si attento qua ucciso oh porca vaca vabbè stiamo in 300 là no oh bello l'ho preso con la granata oh ti levi credo che c'è uno qua ucciso no ho preso fuoco porca vaca vabbè siamo pure in minoranza stiamo ce ne mancherà tipo 1 con pagori troppo veloce non so solo overdrive overdrive ora mi si brucia il processore attenzione amore non muore mamma mia c'è quello lì attento che ho fatto fuori io non la giochi a me e per caso nooo si sei set sto facendo sto facendo sei set oddio no mi è esplosa la cosa addosso ma che cavolo è esploso è esplosa la oddio oddio si si la mina la mina attenzione che qua ne vengono ma mori ma perché non muoio cioè tu non muoio no mi fa incazzare sembra uccisa uccisa con l'h uccisa ucciso no le spalle oh attenzione oddio ha laggato quanto sto andando porca puttana non lo so come va ma c'è te volte lagga in sta mappa in sé anzi ecco adesso sto allargando proprio di brutto ragazzi questi c'è per solo bellissime a specialmente su gioco ieri sera vabbè però ho laggato tipo troppo e poi no ci sono ieri sera non potevo non ho giocato perché ho attaccato il cao e tutto quanto adesso sto giocando con il cao perché sono con la chiavetta da questo sarebbe scollegato io no oh biletto da visio sbloccato no ma perché non muore no con la cazzo di no però dai solo prima della squadra non sto andando tanto male ora te combattere 12 eh no io sono terzo ah ma dai ah porca troia stavano in 50 e c'è quello con la giaffia ma quanto cavolo ce n'è qua tutti al centro stanno eh ma sono forti eh si concentrano in questa mappa tutti al centro si mettono uno ho fatto fuori uno con la granata siamo a 69 e stanno vincendo l'oro eh sì 70 direi vada qua pita oh oh oddio santo non c'ho capito niente ma quanti sono madonna oh mio dio ma dov'è eh oddio santo no niente non vedevamo quello mi stavo trollando perchè io andavo alle spalle a lei e lei girava alle spalle a me ho preso anche il il cosa come si chiama approdigionamento acqua il mio a poi ritornare in vita non lo so che ho usato lo schianto gravitazionale quello strato si vabbè ero già morto ho sparato non c'è si è baggato praticamente entrato dentro ma se no che è successo ma sì ma che ero incastrato gli alleati davanti cazzo però che mi incastrano ma che cazzo e abbiamo perso ormai troppo dove andare così io fare la chicca uccidetemi così mi vedo della città uccidetemi ma se perdiamo ma hai fatto la kill cam si va bene ragazzi spero che la kill cam vi sia piaciuta guardiamo la kick a questo col fucile ma che c'è guarda qua che poi io stavo sopra stavo sopra bellissima è stata ho sprecato combustibile ita compagni hai visto quella a sinistra che fa salta dai però tutto sommato io ho fatto 20 20 20 20 20 morti 20 kill dai allora vediamo un pochino adesso di modificare qualcosa comunque compagni comprateli qualcuno dei personaggi quanti punti già io uso sempre drogato perché questo è il tizio che si trova che poi morirai viene un infarto buoni sono da usare allora c'è sta la droga è quello del cecchino cecchino il con l'arco prophet batteri pure forte vabbè seraph e nomad li sblocchi a livello 22 ora ora puoi essere che mi metto la donna dai quella che è tuo che si eccita no io non c'ho la donna io c'ho nomad ah no ma dai io ora metto la donna che si eccita oh sì andiamoci dentro ok metto specialisti rhein ah si chiama rhein questo qui con l'ho vedrai ruin ah rain 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 poi c'è 8 ride quella di cocappuccio poi c'è batteri 0 0 si sblocca a livello 22 atti a livello a livello 324 c'è sta crash bandywood vero io vorrei usare bene per spectre firebrick cover black va bene ora sono la donna assassino lì vediamo che cosa combina una donna assassino questa mappa non ti ricordi sono sì mi hai spaccato di kill con ragazzi la trotta ho fatto una partita con i cecchini facciamo qui che non mi ricordo il nome del cicchino quale era tutto riguardo vabbè l'ultimo cecchino da sbloccare per il dragon in dragon no era l'esn 100 mi pare ah l'ero vero 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 si 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 via libera sn100 va bene vediamo ora che cosa farò qui con la tornata hai visto che sono bella ah se quella la si no hai infatti detto mando stai ho visto che sei che è successo c'è uno qua si attenzione 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 nooo mi hanno fottuto a giro mi ha inculato la donna mi ha inculato oh sono stata inculata muori oddio santo non ci ho capito niente oddio muori e dove andavi con un per cento di vita dove volevi andare dove volevi andare se la figa eh mannaggia non si dicono queste cose poi i bambini crescono storti i bambini vero 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 è vero ho fatto 3 kill no 4 ti piace però questa donna noi che è sempre incappucciata che è un assassin grid è stato io sono un assassino il mio nome è ezzia uditore dal virenze oh no ho fatto 3 kill defila ma il mio nome è ezzia ezzia uditora da fine oh livello vero ezzia uditora ok ezzia uditora c'è una col bomba che è mi sopra oddio chi è? ma guardami come corro bella nel muro nel muro che è? oh l'ho fatto fare con la pistoletta sono un mito uccisione confermata addio santo madonna ancora non ho usato l'abilità speciale che ha l'arco tu ce li riesci a usare l'arco con questa? eh più o meno no ah hai visto che su butterfield c'è sta un modo che blocca l'arco no no non lo sapevo che potevi mi aveva detto vabbè matteo chi potevi usare l'arco no ah capito porco due questo mi ha sparato al volo come cazzo ha fatto vediamo se eeeh ciao chi so va bene potrei usare ora l'arco più o meno un po' colo madonna mi avete fatto saltare aiuto usiamo l'arco porco due questo che spara fiamme e oh vabbè c'è rotto il cazzo eh colpito compa l'ho ucciso uno con l'arco vabbè dai tutto sommato eh dai buono attenzione una mirazione della zona o per la vita ride nemico questo si sente tipo Tomb Raider con l'arco attento eh eh paracuit chi è la butta la bomba muore stronza oddio saldo cazzo è un'elicottero perdiamo anche questa oddio ma chi è oddio ma chi è cazzo le palle di zombie le palle di zombie imbastate UAV oh ma chi c'è l'elicottero occhio eh sto cazzo di elicottero porca puttana distrutto distrutto bella la palla mi ha colpito ma non ci è distrutto sto cazzo di elicottero no porca puttana distrutto UAV distrutto si mette invisibile sto aereo ora ho capito no abbiamo proprio un testo l'aereo ste merda di palle mi stanno rompendo le palle ste palle o porca puttana ma che cazzo ma che cazzo no dai però stiamo facendo schifo non so con bambui che te non sei eh ma questi sono forti cazzo sono animali porca puttana sono tutti animali sono tutti animali ah animals minchia queste cazzo di oh ma che combattie oh lo scrivono eh ragazzi ragazzi non bestemmiamo perchè dobbiamo bestemmire quando va a bestemmire non l'avevo visto no è lì non ha scritto beccato oddio ah ecco vabbè moroso arco cioè questo dove cazzo fino a quanto cazzo lo lancia al fuoco madonna no mi ha bruciato la pepe ci stanno facendo proprio il culo e la merda questo controller mi sta no ma che cosi mamma mia per poco ti facendo la dai che vabbè ragazzi se c'è sempre la bestemmia non mancano mai non capivo ne minchia ci sono anche siciliani come me e vabbè però dopo tutto noi siamo arrivati vabbè siamo arrivati i secondi dai io lo tengo scritto io secondo no 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 vabbè ragazzi diciamo che è stata una partita un pochettino non si è capito tanto 14-23 comunque quella di prima andiamo a cercare parandonino 44-23 come sa quello che io sono su youtube ha letto il nome tuo vabbè no è successo un guaio che è successo ma vabbè non mi farà venire mini infartio comunque ragazzi io posso dire che finisce quel video diventa 500 giga ragazzi se no speriamo commentate se vuoi dire qualcosa no è solo dicendo che spero che la partita vi sia piaciuta ragazzi anche se pochettino è sempre solo sempre come sono laggano però iscrivetevi ma che vabbè comunque ragazzi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi ai nostri canali e ciao a tutti